Monitorare e pulire le spiagge dalla presenza dei cotton fioc sulla battigia è stato l'obiettivo di un numeroso gruppo di volontari che si sono adoperati e hanno aderito al progetto promosso dall'Associazione Romana Elisia a tutti i parchi naturali costieri. Il progetto prevede anche una sensibilizzazione all'utilizzo del prodotto USA e Getta non biodegradabile e valutare l'efficacia della legge contro i cotton fioc che ha proibito a partire dal 1 gennaio 2019 la produzione e la vendita su tutto il territorio nazionale. L'iniziativa aggiunta al suo tredicesimo rilevamento prevede un campionamento mensile grazie all'aiuto delle scuole, gruppi scout e delle associazioni ambientaliste dei cittadini. Vogliamo che il nostro mare soffra di meno, la nostra fauna marina sta soffrendo molto e questo è un appello a tutti affinché la gente cerchi di prendere meno plastica. Poiché prendiamo un prodotto cotton fioc in plastica o non, a noi non ci cambia niente, anzi ci dovrebbe cambiare sapendo il fatto che noi abbiamo un diritto al futuro, un diritto per il quale anche noi dobbiamo avere una vita così come i nostri animali che troviamo in acqua. Perciò cerchiamo di pulire la spiaggia quando ne abbiamo la possibilità perché quando ci sono le mareggiate la plastica che non abbiamo raccolto rifinirà in mare e potrebbe andare in pasto al prescio che vi troverete in tavola. Abbiamo trovato all'ultima ricerca 70 cotton fioc e dobbiamo cercare di appunto come ha detto Riccardo consumare sempre meno e cercare soprattutto di buttarlo negli appositi contenitori, nei cassonetti invece che buttarli appunto negli scarichi. L'iniziativa a favore dell'ecosistema che è stata vissuta all'insegna dell'integrazione tra Pesore e Fano nell'intento di contribuire alla bellezza del territorio e correggere abitudini sbagliate di alcuni continuerà anche in futuro come ha annunciato lo zoologo del Parco San Bartolo. Abbiamo l'idea appunto di continuare con questi bravi ragazzi e qui abbiamo la rappresentante Riccardo e Sofì di due ma sono molto di più in realtà, si alternano, girano però quindi la volontà del Parco con le altre associazioni di continuare questo monitoraggio.